La scelta diciamo che è quasi ovvia nel senso che il primo anno è stato un grosso successo per noi, è stato un grosso successo un po' perché l'ortobotanica è un luogo magico, perché il fuorisalone è un evento che attira tantissime persone e perché il messaggio che abbiamo veicolato l'anno scorso, che era quello più sulla smart town, quindi su questi device per la smart home, ha avuto un impatto importante per noi per non più posizionarci come un semplice venditore di commodity gas e luce, ma un fornitore di servizi per la casa. Quest'anno ripetiamo l'esperimento con molto entusiasmo e parliamo di un altro tema che ci sta molto a cuore, che è quello dell'efficientamento energetico, quindi con l'iniziativa Capotto Mio andiamo a parlare dell'efficientamento energetico dei condomini. Esatto, l'anno scorso smart town, quest'anno Capotto Mio, puoi spiegarci questo servizio? Sì, Capotto Mio è un servizio, io la chiamo un'idea intelligente, perché dobbiamo partire dal fatto che in Italia ci sono circa 1.200.000 condomini e il 70% di questi sono costruiti più di 50 anni fa, quindi con standard di risparmio energetico e di efficientamento energetico molto bassi. Quindi, mentre oggi si parla sempre di edifici nuovi in classe A estremamente efficienti, la grande maggioranza in realtà poi dei condomini esistenti in Italia è poco efficiente da un punto di vista energetico. Quindi Eni ha pensato, insieme ai suoi partner, di mettere insieme le aziende che possono effettuare questo tipo di intervento, aziende finanziarie che permettono di gestire la parte organizzativa e soprattutto riscattando l'incentivo fiscale che viene messo a disposizione, che è molto alto, 75% fino all'85% nel caso di sisma bonus e minimizzando quindi l'impatto economico per il condomino, che si trova a pagare un prezzo molto ridotto, si trova a risparmiare immediatamente sulla spesa energetica e nello stesso tempo ad avere un edificio che acquista valore in quanto più efficiente da un punto di vista energetico. Quindi alla fine un'idea intelligente.